E' finita in parità la semifinale di andata di Champions tra Manchester City e Real Madrid. 0-0 il risultato all'Etihad Stadium. Stasera è in campo l'altra semifinale tra l'Atletico Madrid di Simeone e il Bayern di Guardioli. Dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro la Roma, torna al lavoro il Napoli. Gli azzurri preparano la sfida di lunedì sera al San Paolo contro l'Atalanta. A tre giornate dal termine la squadra di Sari deve difendere il secondo posto Champions. Oggi faccia a faccia tra il tecnico e la squadra. Servono nove punti. Non va sciupato. Un anno fantastico. Affidato a Federica Pellegrini il ruolo di portabandiera azzurro ai giochi olimpici di Rio 2016, la decisione arriva dal presidente del CONI Giovanni Malagò. Non poteva essere che lei. Orgogliosa Federica e il coronamento di anni di carriera. Buon esordio per Paolo Lorenzi al torneo Estorilla TP. L'italiano ha sconfitto in 2-7 lo svedese Imer con il punteggio di 7-6-6-3. Al secondo turno affronterà l'argentino Maier. Grazie. 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 Grazie.